Il vero confine con il mondo dell'Unione Europea è il Mediterraneo. Pensiamoci bene. A est c'è la Russia, abbiamo deciso che è un nemico. A ovest c'è l'Atlantico e mai come in questo periodo storico l'Atlantico è stato così largo, considerati gli orientamenti politici della presidenza Trump. A nord non sappiamo neanche bene che cosa ci sia, c'è quasi nulla. A sud c'è il Mediterraneo, è il Mediterraneo il vero confine dell'Europa con il mondo. Ora è incredibile che il proprio l'Europa sia così impotente, divisa, poco lucida nell'affrontare quello che oggi è il primo problema del Mediterraneo, cioè il primo problema del suo confine con il mondo, ovvero le migrazioni. Basta osservare, seguire le trattative che si svolgono in questi giorni a livello europeo per il superamento del trattato di Dublino, che possiamo già dirlo fin d'ora, non avverrà questo superamento del trattato di Dublino, non ci sarà. Abbiamo sentito il Presidente del Consiglio europeo von der Leyen e anche Ilva Johansson, ovvero la commissaria alle questioni dell'immigrazione dei rifugiati, spiegare chiaramente che non ci sarà alcuna obbligatorietà nel ricollocamento dei migranti e che comunque tutto il sistema di accoglienza, chiamiamola così, e integrazione, chiamiamola così, dei migranti, continuerà a appoggiare sul paese di primo approdo, ovvero l'Italia, perché diciamocelo francamente, il paese di primo approdo in altra parte d'Europa era la Grecia ed è stato sistemato facendo il patto con la Turchia, che si tiene i migranti che altrimenti arriverebbero in Grecia, resta solo l'Italia. Ora, quello di cui si sta discutendo adesso a livello europeo è che non ci sia alcun ricollocamento obbligatorio dei migranti, ma che i paesi che non vogliono accogliere e ricollocare i migranti diventino responsabili del loro rimpatrio. E già questo ci dice una cosa, questa Europa che parla di se stessa come di un continente accogliente, accogliente non è. La stessa commissaria Ilva Johansson, ex comunista, ora socialdemocratica, ci ha spiegato che due terzi dei migranti che approdano in Italia e quindi in Europa e che chiedono una forma di protezione umanitaria o politica, non hanno diritto a questa protezione e che quindi devono essere rispediti indietro. Questo è il pensiero dell'Unione Europea riguardo ai migranti. In più c'è tutta la questione del fatto che i migranti economici, i cosiddetti economici, cioè quelli che non arrivano da zone di guerra, ma semplicemente sfuggono alla fame, alle carestie, alle inondazioni, alle siccità, ai disastri naturali, eccetera, eccetera, questi non hanno diritto ad entrare in Europa. Quindi metteteci due terzi di quelli che chiedono protezione umanitaria, più tutti quelli che vengono in Europa in cerca di un futuro migliore e vedrete che l'Unione Europea ritiene che la stragrande maggioranza dei migranti debbano essere rispediti a casa loro. Ora, questo sistema che viene ipotizzato, e cioè paese di primo approdo sempre responsabile, ma gli altri paesi dell'Unione Europea pronti a contribuire, a realizzare, anzi addirittura in prima persona, il rimpatrio della stragrande maggioranza dei migranti che non hanno diritto ad entrare in Europa, ecco, questo sistema secondo me non ha alcuna possibilità di funzionare. Non c'è alcun modo di costringere l'Ungheria, i paesi di Viscegra, i paesi del nord Europa a mettere le mani in una grana come questa, cioè a prendere centinaia di migliaia e migliaia di migranti e rimpatriarli. Per dire, tutti i tunisini che sono arrivati con le ultime ondate che certamente non scappano da una situazione di guerra, sono migranti economici, quindi secondo la legislazione europea non hanno diritto ad entrare in Europa. Vi immaginate che la Francia o la Spagna o l'Austria o la Germania si metta lì a prendere questi tunisini e a rispedirli, a riportarli in Tunisia? Io non credo proprio. E il dramma di tutto questo non è solo la situazione dell'Italia che sarà anche per la sua posizione geografica il paese più esposto di tutti, ma il dramma vero è quello dell'Europa. Il dramma vero è quello dell'Europa che non riesce a impostare una decente risposta al problema del suo confine principale che è il Mediterraneo e questo problema sono le migrazioni. E le migrazioni sono un problema non contingente, non sono un'emergenza rispetto di quanto alcuni ancora si ostinano a dire. Le migrazioni sono uno stato cronico, sono un malessere cronico che coinvolge l'Africa e il Medio Oriente che sono zone estremamente popolate, giovani e povere e riguardano dall'altra parte un continente come quello dell'Europa che è un continente ricco, vecchio e vuoto. Se non mettiamo mano a questo problema in una maniera finalmente seria e produttiva questo problema si risolverà da solo in maniera drammatica e automatica.